Il convegno partenopeo si conclude con una prova riservata ai quattro anni sulla distanza inedita dei 2600 metri. Il premio Polifemo non corre da Kijet, restano in nove. Sette in prima fila, due in seconda. Autostart che prende velocità. Con prudenza Diablo di no. Anche Darione Gioepson non partecipa al lancio. La rottura di Don Peppe. Alvia, da Cota dei Greppi, cerca di contenere Dominio B che poi insiste. Il Sauro, nato in Svezia, affidato a Romeo Gallucci, prende l'iniziativa. Con lancio in 13 e 7. Da Cota in seconda posizione. In terza troviamo Don Lurio. A largo interviene Dendaboi. Primo quarto ultimato in un velocissimo 28 e 6. Si complica tutto perché Dominio B sembra intenzionato ad agire all'avanguardia. E Dendaboi lo va ad impegnare severamente. 600, completati in 43 e mezzo. Si viaggia a media di 1,12 e 7. Ha solo voluto far spendere l'avversario Romeo Gallucci, che alla fine, al completamento della seconda piegata, è nuovo leader. 58,6 gli 800. Ricordiamo che la corsa è programmata sui 2.600 metri, per cui la spesa iniziale è stata veramente notevole. Avanza Diablodino. Primo chilometro in rallentamento in 1,15 e 2,16 e spiccioli di ultima frazione. Diablodino va a stazionare ai lati del battistrada Dendaboi. Ha preso la seconda pariglia Don Lurio. La terza è di Damon JVS. Ancora una frazione in 16. Adesso deve gestire le energie Dendaboi. Continua con un parziale moderato in 16. Avanza adesso Damon JVS, che costringe la testa della gara ad accelerare. Così Diablodino insiste su Dendaboi. 2,1 e mezzo. Il miglio. Dendaboi, Diablodino, Damon JVS, che parcheggia in seconda pariglia. Scavalcato Don Lurio. 15 di curva Diablodino. Va ad impegnare severamente Dendaboi, quando mancano circa 700 metri alla conclusione. Ultimi 200 metri in 14,7 e 2,31 i 2.000 metri. Dendaboi e Diablodino alle prese. Ritorna a largo Damon JVS. Di dentro c'è sempre Dominio, che aveva fatto il lancio e poi aveva dato strada dopo 600 metri a Dendaboi. Ancora un 14,5. Dendaboi cerca di scrollarsi di dosso Diablodino, che non lo perde di vista. Muove Dominio B. Allunga Dendaboi. Dominio B si libera. Dendaboi in vantaggio. Ci prova Dominio B. va su Dendaboi. Lo impegna severamente. Dendaboi e Dominio B. Dominio B e Dendaboi. Dendaboi. Se la deve sudare, ma la vince alla grande. Conservando mezza lunghezza da Dominio B. media finale di 1,15,4 sui 2.600 metri. Ha dovuto spendere tantissimo per sfilare a condurre. Ha dovuto respingere diversi attacchi Dendaboi e se non avesse corso in maniera superlativa questa corsa probabilmente non l'avrebbe vinta. Al secondo Dominio B, che ha corso alla grande. E per il terzo è emerso il passista di Casabricchigetta. Si chiude nel segno di Antonio Simioli che doppia dopo il successo di Eiffel Fee. Doppia anche Domenico Minopoli al training. In questo caso con il portacolori del signor Renato B.